Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di ARPA. Al giovedì pomeriggio venerdì mattina nubi basse protagoniste, qualche debole pioggia. Nel pomeriggio di venerdì ampia e scarite, ma il flusso umido meridionale tornerà sabato ad anticipare l'avvicinamento di un fronte atlantico. Il dettaglio, oggi giovedì 12 gennaio, pomeriggio caratterizzato dal transito di nubi alte e sottili. In serata aumento di nubi marittime sulle zone centrali, venti fino a moderati da sud-ovest sull'imperiese, deboli variabili o assenti altrove, mare mosso, levante in calo, poco mosso altrove, temperature massime stazionarie lungo la costa tra 13 e 17 gradi nelle zone tenne tra 9 e 15 gradi. Domani venerdì 13 gennaio nubi medio-basse con possibili deboli pioggia al mattino sul centro levante. Dal tardo pomeriggio l'ingresso di correnti settentrionali più secche favorirà ampie schiarite, venti deboli o moderati meridionali tendenti a ruotare da nord a nord-est in serata, mare molto mosso, levante per onda da sud-ovest, mosso altrove, temperature minimi in aumento lungo la costa tra 8 e 11 gradi nelle zone interne tra meno 1 e 5 gradi, massime stazionario in lieve aumento lungo la costa tra 14 e 17 gradi nelle zone interne tra 11 e 14 gradi. Dopodomani sabato 14 gennaio mattinata caratterizzata dal transito di estese velature, dal pomeriggio graduale aumento delle nubi, in serata possibili deboli pioggia levante, venti deboli in rotazione ciclonica sul Golfo Ligure, mare mosso con tendenza a calare sulle coste di centro ponente, temperature minime in leggero aumento lungo la costa tra 5 e 9 gradi nelle zone interne tra meno 2 e 4 gradi, massime in calo lungo la costa tra 14 e 15 gradi nelle zone interne tra 9 e 14 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti su arpal.liguria.it, sulla pagina Facebook di Arpal, sul profilo Instagram dell'agenzia e ricordate di scaricare l'app Meteo 3R disponibile su Google Play e Apple Store. A risentirci!